Dall'Ucraina a Castrovillari, il gruppo Folk si sta esibendo durante il 65esimo carnevale. E' stato un viaggio molto interessante e molto contenta di essere qui in mezzo a tanta gente sorridente e soprattutto è stato un viaggio molto interessante e molto contenta di essere qui in mezzo a tanta gente sorridente. E' molto contenta di aver incontrato molte persone nuove. C'è un miscuglio culturale. Che messaggio state portando dall'Ucraina in Italia? Quale messaggio ti portate da Ucraina all'Italia? A messaggio? Lei ha detto che porta un messaggio di pace e soprattutto è importante in questo periodo vedere altri paesi in pace e dice di non fare la guerra ma di abbracciarsi e di sorridere e l'Ucraina riuscirà a rialzarsi. Grazie